Di nuovo buongiorno Friuli e bentornati in diretta in nostra compagnia per la rassegna stampa sportiva di questo venerdì 31 agosto. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali, le pagine sportive dei quotidiani locali già pronte nel nostro touchscreen. Allora iniziamo a sfogliarle, iniziamo a sfogliare le pagine dei quotidiani locali per andare a cercare le notizie che riguardano la nostra Udinese. Subito sulla prima pagina del fascicolo sportivo del Messaggero Veneto dove campeggia una foto di Valom Berami e lui il protagonista dell'articolo di apertura del Messaggero Veneto di oggi. Ecco il nuovo Berami, tutto cuore eudinese per far pentire la Svizzera. Dopo i numeri con la Samp il messaggio al CT che lo ha escluso dalla Nazionale. I malintesi non vanno spiegati, vuole fare parlare il campo in bianco-nero. Questo è il titolo e poi leggiamo anche le prime righe dell'articolo di Pietro Leotto. Ricordate, ricordate il tormentone a un vedi come ballanando? Ecco, dopo averlo visto all'opera contro la Samp, celebrando i suoi trascorsi laziali, più di qualcuno ha pensato a un vedi come lotta Berami. Un'autentica priovra piazzato al centro da libero davanti alla difesa nel 4-1-4-1 provato da mister Velasquez o come snodo nel 4-3-3 che di tanto in tanto si componeva sul campo dei Rizzi, nel quadro di una mediana che contava anche su Fofanà e Mandragora ai fianchi. Lo svizzero, nato in quella che oggi Kosovska-Mitrovica, ha letteralmente dominato la partita, distruggendo il gioco d'Oriano per poi consegnare il pallone ai compagni e innescare così le cosiddette ripartenze. Una super prestazione che anche nelle fagere dei vari quotidiani è stata giudicata con dei voti altissimi. E poi vediamo anche l'articolo che prosegue ricordando i complimenti sui social fatti a Berami e anche dai compagni come Rodrigo De Paul e poi appunto anche lo sfogo che c'è stato nei confronti del CT della Svizzera, Vladimir Petkovic che dopo il mondiale lo ha escluso. Ecco il passaggio dell'articolo che parla proprio di questo. Berami ha deciso di rispondere sul campo al siluro arrivato dalla sua Svizzera che per decisione del CT a inizio agosto aveva deciso di metterlo fuori dalla porta una volta per sempre. Venerdì scorso lo stesso selezionatore ha voluto mettere fine alle polemiche con una frase secca l'esclusione era soltanto frutto di un malinteso. Il bianconero dopo la sampa ha risposto con un post in inglese in cui ha detto che i malintesi non hanno bisogno di essere spiegati. Le idee chiare e le persone giuste intorno a me, ho le idee chiare e le persone giuste intorno a me, ha detto Berami. Come dire, io risponderò sul campo con la maglia dell'Udinese ad osso e potendo contare sul sostegno delle persone care, a cominciare dalla moglie Lara Gut che in questi giorni si sta allenando in Cile per preparare la Coppa del Mondo di Ski. È questo l'articolo di apertura dedicato appunto a Berami. Andiamo nella pagina accanto adesso e leggiamo quest'altro articolo di Stefano Martorano che invece punta l'attenzione sul modulo che il mister potrebbe adottare nella prossima gara contro la Fiorentina. Un modulo che il tecnico potrebbe appunto confermare, quello della partita precedente, cambiando però gli interpreti in attacco. E il titolo è L'idea meravigliosa di mister Velasquez, lasagna alle spalle di Bomber. E poi anche qui le prime righe dell'articolo lasagna, arretrato sulla linea dei tre quartisti con Macis e De Paul, ma in posizione centrale in modo da agire alle spalle di Teodorci che è questa la mossa pensata e provata in allenamento. L'idea meravigliosa con cui Julio Velasquez potrebbe sorprendere la Fiorentina che forse un'udinese così spregiudicata non se l'aspetta proprio in visita al Franchi. Eppure a ben pensarci, se il tecnico spagnolo confermerà quanto provato a Bruseschi, ci sarà ben poco di cui sorprendersi, considerato che questa scelta non solo fa parte della logica e della filosofia offensiva di Velasquez, ma soprattutto tiene conto della realtà tra le caratteristiche dei giocatori, le esigenze di squadra e i fatti. Andiamo adesso nel taglio basso e vediamo, per quanto riguarda gli uomini che potrebbero scendere in campo domenica, Scuffet resta e duellerà con Musso verso la conferma coi Viola, poi l'Under 21, in realtà si fa il punto più in generale sul mercato che chiuderà proprio oggi il mercato, sta chiudendo anche all'estero, Angela è stato trasferito, il portiere di Remanzacco aspetta di giocarsi il posto con l'argentino e viene convocato dagli azzurreni. Ecco qua una foto di Scuffet. Nella pagina successiva, guardando appunto alla partita di domenica, vediamo le designazioni arbitrali, c'è il semi esordiente Giuwa a Firenze con Banti al VAR, ha una laurea in ingegneria gestionale presa all'Università di Pisa e domenica Firenze dirigerà la sua seconda partita di Serie A. Manca dunque di esperienza Antonio Giuwa, il trentenne arbitro saldo a cui è stata segnata la sfida del Franchi tra Fiorentina e Udinese. Nel compito sarà affiancato dagli assistenti Marrazzo e Liberti con Marini come quarto uomo. Il fattore esperienza sarà invece garantito da Luca Banti, toscano, in quanto nato a Livorno, che sarà al VAR, quali uvato dall'assistente Peretti. Banti vanta a 212 direzioni in Serie A, arbitro internazionale. Gli ultimi trascorsi al Franchi non sono molto positivi per i bianconeri, tant'è che il messaggero titola La maledizione del Franchi, 11 anni di sole sconfitte, ben 33 le reti subite, 10 quelle fatte. Andiamo anche sul gazzettino e continuiamo a parlare di Udinese. Andiamo a vedere anche qui i titoli principali. In primo piano abbiamo Nointing in forse per Firenze. Ho poco pronto alla chiamata. Scontata l'assenza di Mandragora per squalifica, l'Udinese rischia di non avere neanche l'Olandese. Intanto Berami è tornato ad allenarsi con il gruppo, così come Balic, una buona notizia per Velazquez. E in quanto alla formazione, il gazzettino scrive il tecnico bianconero non dovrebbe modificare l'11 visto in campo contro la Sampa a livello di modulo, ma la formazione è ancora in fase di studio. E andiamo a leggere anche qui le prime righe dell'articolo di Guido Gomirato. La cabala dà per spacciata l'Udinese. I bianconeri nelle ultime dieci trasferte al Franchi di Firenze le hanno sempre buscate. Sovente hanno giocato pure male, per cui c'è poco o nulla da recriminare. Ma è il presente che conta e che sicuramente dice che l'11 viola è in salute. Ne sa qualcosa il Chievo, che domenica scorsa è rientrato a casa intontito dopo le sei sventole subite. Ma l'Udinese non vuole essere una vittima sacrificabile. Agli artigli per difendersi, per tenere a bada la squadra di Pioli. Naturalmente per conquistare il risultato positivo, pari compreso, ma è scontato. I bianconeri cercheranno di far man bassa nel rispetto in primis delle loro qualità, poi in quello della filosofia del loro nocchiero che sembra abbia trasformato l'armata Branca Leone di un anno fa in una compagine vera che in campo sa starci con Acume, che sa essere equilibrata, che sa difendersi nella seconda fase, ma che ha le armi per colpire mortalmente l'avversario, chiunque esso sia. Non scordiamoci soprattutto che anche l'Udinese è in salute come espressione e organizzazione di gioco. Ovviamente ci sono anche dei problemi, non ci sarà lo squalificato Mandragora, anche se c'è attesa e speranza per resito del ricorso contro la giornata di squalifica, inflitta al regista dopo che la prova TV avrebbe dimostrato che Mandragora a fine gara avrebbe proferito espressioni blasfeme, ieri si è allenato regolarmente Berami e anche Balic, che si è unito al gruppo ieri, rimane in infermeria Barak, che è tormentato da un problema al quadricipite. In infermeria anche Nointing, l'olandese, verso la conclusione dell'allenamento di mercoledì, è stato toccato duro al ginocchio. Gli esami strumentali non hanno evidenziato lesioni, per cui il difensore dovrebbe farcela per Firenze, anche se ieri pomeriggio è stato a scopo precauzionale, non è sceso in campo. Ancora la ripresa, oggi i bianconeri torneranno in campo alle 10.30 per un allenamento prettamente tattico e poi domani la rifinitura al termine della quale è prevista la consueta conferenza stampa pre-partita del mister. E vediamo ancora qualche altro titolo, sempre sul gazzettino, si guarda alla partita contro la Juve, ovviamente si prospetta il pienone per la sfida contro la Juve delle 7 ottobre. nel taglio basso invece vediamo. Questa intervista ha un nuovo acquisto per l'area tecnica bianconera, si tratta di Ripa, Roberto Ripa che ritorna a casa, aveva giocato anche nell'Udinese a metà degli anni 90. Ripa torna a casa, un'emozione essere a Udine. Nella nuova Udinese che si proietta al futuro tornando al passato, spicca anche la figura del supervisore dell'area tecnica Roberto Ripa, arrivato per dare esperienza e appoggio al lavoro di Daniele Pradè. Un giovane rampante che conosce bene Udine, avendoci giocato a metà anni 90, motivo ulteriore per accettare con entusiasmo il ruolo offerto gli dalla famiglia Pozzo. C'è grande soddisfazione nel tornare qui perché a Udine ho vinto un campionato di B e ho fatto quattro mesi di Serie A. Conosco l'importanza di questa piazza e sono molto felice del mio ritorno, ha detto Ripa. Che così come Pradè ha dei trascorsi anche a Firenze e ovviamente per loro quella di domenica sarà una partita dalle emozioni contrastanti, scrive il Gazzettino. Andiamo a dare un'occhiata anche a un altro passaggio dell'articolo che troviamo di spalla che ci parla della Coppa Italia della primavera. Non prevede la disputa del turno preliminare inizialmente programmato per mercoledì 12 settembre e la Lega Calcio ha stabilito quindi che la competizione avrà inizio con il primo turno eliminatorio in programma mercoledì 26 settembre. E vediamo ancora tutta la pagina dedicata all'Udinese ma anche al Pordenone. Ecco l'articolo che troviamo nella pagina accanto dedicata al Pordenone prima di andare ad approfondire però questo articolo facciamo un piccolo break e colleghiamoci con la centrale operativa della Polizia Locale del Friuli Centrale. Al telefono con noi oggi abbiamo l'ispettore Alessandro Baita al quale chiediamo subito di raccontarci com'è la situazione traffico in città e nei vintorni in questo momento. Buongiorno. Buongiorno a tutti attualmente la situazione è molto tranquilla iniziamo con le belle notizie è riaperta completamente via del Boncchia interessata per l'asfaltatura come pure il controverso di Viale Venezia quello in uscita via Birago verso la tangenziale quindi assolutamente riaperti e percorribili. Lavori poco conto via Grassano e Dimitro fenevico di Dimitro per la posa fibra ottica invece per ciò che riguarda il weekend domani c'è un po' il chiuso del centro per l'arrivo della Reglie delle Lampie Orientali con una fetta di piazza primo maggio qua di fronte all'ex praticamente asena del soggiorno interessata al parco macchine domenica c'è una chiusura in Via Lopardi per la corsa ciclistica verso mezzogiorno da 10.30 a mezzogiorno anche pomeriggio inoltrato per l'arrivo da Via Palmanova chiaramente dunque lunedì invece ricominciaranno dei lavori per il terzo riscaldamento in Viale Volontari e in Viale Venezia anche prepariamoci che sarà la corsia interessata quella diciamo dal Policlinico verso il centro città alla vola di asfaltatura da lunedì questo da lunedì perfetto grazie allora all'ispettore Alessandro Baita per questi aggiornamenti per quanto riguarda appunto la chiusura di alcune strade per l'arrivo in città del rally anche di una corsa di biciclette nella giornata di domani e di domenica poi se avremo tempo parleremo proprio anche dei rally con un articolo apparso oggi sulla stampa locale grazie alla centrale operativa della Polizia Locale adesso possiamo rientrare in studio e ritornare sulle pagine del Gazzettino dovevamo parlare del Pordenone ecco qua l'articolo in questo caso il protagonista è un tifoso del Pordenone l'ex sindaco Sergio Bolzonello che punta su Tesser Magniaghi il nuovo allenatore è un valore aggiunto ha detto Bolzonello Simone può diventare un bomber da 15 gol prima di tutto va sottolineato l'ennesimo miracolo compiuto da Lovisa e dalla società detto ancora l'ex sindaco di Pordenone storico tifoso dei Ramarri il suo amore per i colori nero-verdi nacque nel lontano 1965 ci racconta il Gazzettino e poi sempre per quanto riguarda il Pordenone vediamo l'ingresso gratuito per il test con il Chions e poi invece nel taglio basso vediamo per quanto riguarda il il mercato Nunzella Tentenna ma ecco Damian e Fiore Leonardo Nunzella punta i piedi e Tentenna l'esterno basso sinistro del Pordenone non gradirebbe particolarmente la Lucchese come destinazione in questo modo farebbe saltare anche l'arrivo in nero-verde di Cardore che rappresenta la contropartita tecnica queste le ultime voci di mercato per quanto riguarda appunto il Pordenone chiudiamo questa pagina del Gazzettino e andiamo a vedere velocemente anche le altre notizie sportive che troviamo sui quotidiani locali di oggi per quanto riguarda il salto in alto vediamo Diamond League Trost Delude e poi Menea è lontano per Guliev la Pordenonese a Zurigo chiude penultima nel salto in alto con un povero scrive il messaggero 1 e 85 e poi il turco cerca di superare il record europeo del nostro Pietro ma finisce secondo e qui vediamo una foto di Alessia Trost che non riesce a risollevarsi dopo l'1 e 91 e ottavo posto ai campionati europei a Zurigo tappa finale della Diamond League al meeting più prestigioso del Circus Iridato la saltatrice in alto Pordenonese ha chiuso al penultimo posto con 1 e 85 mancando il traguardo che si era fissata per l'ultima parte del 2018 ovvero il personale stagionale di 1 e 94 e poi dicevamo prima del rally ecco qua l'articolo è il giorno del rally nelle valli e ritorno con arrivo a Udine autostoriche e moderne il via oggi alle 13 partenza dal Cittafiera quartiere generale e poi vediamo appunto anche qui tutto l'articolo ancora sempre sul messaggero veneto andiamo a parlare di GSA perché questa sera pallacanestro Udine sarà in campo contro Trieste a Lignano ecco qua il titolo a Lignano va in scena al derby Udine-Trieste alle 21 e 15 l'atteso è unico vista la promozione di Trieste in A1 confronto stagionale con i Cugini alle 18 Raier-Venezia un Euro for lì e domani ci saranno le finali un derby è sempre un derby anche quando si gioca in precampionato dopo soli dieci giorni dall'inizio della preparazione e specie se sarà l'unico della stagione oggi alle 21 e 15 la Pugsa affronterà l'Alma Trieste nella seconda semifinale del quadrangolare Lignano Basket al termine della prima sfida in programma appunto tra Raier-Venezia e Unieuro for lì domani sempre al palazzetto di Viale Europa Lignano sono previste le finali terzo quarto posto alle 18 e la finalissima alle 20 e 15 quella di oggi sarà una sfida interessante sotto diversi aspetti ma soprattutto a Lignano andrà in scena il primo dei due solidarby stagionali tra le due realtà cestistiche della regione Udine e Trieste si affronteranno nuovamente solo alla Summer League di Monfalcone a fine settembre prima di iniziare i rispettivi campionati i tifosi allora non si faranno di certo sfuggire l'occasione per darsi battaglia con la voce sugli spalti e rivivere il clima che solo un derby sa regalare ed ecco qua tutto l'articolo chiudiamo adesso questa pagina del messaggero Veneto e andiamo adesso sulle prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali in questi ultimi minuti del nostro buongiorno Friuli ecco la prima pagina della Gazzetta dello Sport come avevamo detto prima in apertura abbiamo il sorteggio dei gironi Champions Juve e Roma Paradiso Inter e Napoli Inferno titola la Gazzetta Allegri sfida Murigno e incrocia i non irresistibili Valencia e Young Boys De Rossi e compagni trovano il Real Madrid oltre a CSKA e Victoria Pilsen per Gironi di Ferro invece per Spalletti e Ancelotti il Nerazzurro Pesca Messi il Tottenham e il PSV e Carletto Rischia col Paris Saint Germain di Neymar il Liverpool e la Stella Rossa questi dunque i gironi di Champions poi nelle pagine interne ovviamente abbiamo tutti e tanti approfondimenti Carica Champions scrive la Gazzetta Ronaldo comincia con il Valencia Icardi alla prova dei campioni Urna a due facce Napoli è dura Inter di più Real per la Roma e la Juve ritrova l'amico Pogba e qui li vediamo appunto tutti i gironi della Champions con l'Inter finito nel gruppo B assieme a Barcellona Tottenham PSV Eindhoven il Napoli nel gruppo C con Paris Saint Germain Liverpool e Stella Rossa e poi vediamo la Roma nel gruppo G con il Real Madrid il CSKA Mosca e Vittoria Pilsen e poi la Juventus con il Manchester United il Valencia e gli Svizzeri dello Young Boys Andiamo a leggere anche gli altri titoli in prima pagina vediamo nel taglio basso il CR7 che non si è presentato Algalà di Monte Carlo che ha premiato i migliori calciatori anche Modric CR7 resta a casa Ronaldo era il candidato forte al giocatore UEFA dell'anno 2018 il suo procuratore Mendes dice un verdetto ridicolo e Marotta che dice quel premio lo meritava Cristiano andiamo a dare un'occhiata anche alle notizie di spalla questa sera a San Siro il Milan cerca di rialzarsi e di Francesco pensa a Zecco Schick c'è Milan Roma in programma questa sera Gattuso c'è la tecnica manca carattere di Francesco dice cerco soluzioni ci serve più cattiveria sempre per quanto riguarda le competizioni europee e fuori dall'Europa League l'Atalanta è uscita ai rigori contro il Copenaghen decidono i rigori l'Atalanta beffata e fuori dall'Europa dopo Bergamo un altro match senza gol anche ai supplementari sbagliano il Papu e Cornelius dal dischetto Copenaghen avanti oggi ci saranno anche i sorteggi per l'Europa League e poi il mondo dei motori con il Gran Premio di Monza all'orizzonte e la carica di Vettel Ferrari siamo più forti solo il podio non ci basta e questo per quanto riguarda la prima pagina della Gazzetta dello Sport Andiamo a vedere prima di dare un'occhiata alle altre prime pagine dei quotidiani nazionali anche la pagina della Gazzetta in cui troviamo l'articolo dedicato alla nostra Udinese c'è la questione portiere in primo piano sulla Gazzetta con Musso che recupera ma il favorito resta Scuffette scrive la Gazzetta dello Sport Velasquez ha il dubbio portiere l'argentino ristabilito al 100% ma l'italiano è in poll e poi vediamo nella parte alta della classifica di questa pagina scusate anche il focus dedicato appunto alla Fiorentina a Vittor Ugo difensore al secondo anno la Fiorentina impara con un maestro come Pioli è facile il centrale brasiliano al secondo anno in Toscana la Fiorentina è partita alla grande con il Chievo ma in difesa contro l'Udinese dovremo fare meglio ha detto il difensore Viola ecco qua e vediamo anche un'ipotesi di formazione chiudiamo questa pagina andiamo a vedere anche le prime die Corriere dello Sport è tutto sport per chiudere questa nostra rassegna stampa vediamo anche qui il sorteggio Champions in primo piano e vediamo Pogba alla Juve Cavani a Napoli Modric a Roma Messi all'Inter i sogni impossibili di mercato diventano realtà scomodissime in Europa scrive il Corriere dello Sport durissima per Ancellotti e Spalletti Allegri e Di Francesco più fortunati e poi vediamo questa sera l'anticipo fra Milan e Roma a Bruci a San Siro titola il Corriere dello Sport andiamo anche su tutto sport e vediamo in primo piano ancora Cristiano Ronaldo CR7 contro tutti buon sorteggio per la Juve che difende la scelta del portoghese di non presentarsi alla consegna dei premi Champions a Modric il riconoscimento dell'UEFA e poi vediamo per quanto riguarda appunto le squadre che la Juve affronterà in Champions ritrova il nemico Murigno e poi vediamo diserta l'evento di Monte Carlo questa era la prima pagina di tutto sport con la quale chiudiamo questo nostro buongiorno Friuli di oggi prima di salutarci però ricapitoliamo un po' anche i principali appuntamenti di questa giornata su Udinews TV ecco la locandina che ci ricorda la nostra prima serata alle 20 per quanto riguarda gli speciali del TG vi proporremo un'intervista realizzata da Domenico Pecili all'assessore regionale al turismo e le attività produttive Sergio Emidio Bini faremo il punto sul turismo in Friuli Venezia Giulia e poi in prima serata lo sport il basket con la diretta della partita fra G.S. Udine e Alma Trieste al torneo di Lignano di cui abbiamo appena parlato durante la nostra rassegna stampa per il momento è tutto noi ci rivediamo alle 13.30 per l'edizione di pranzo del nostro telegiornale grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di giornata su Udinews TV Grazie per la visione